Il numero uno dei numeri uno, fate l'applauso sulla fiducia, non lo nomino neanche, a me è piaciuto, è inutile nominare. Numero uno dei codici Fiender Awards. Andate su YouTube, cercate un pificio sonico Toa Mata, fine del messaggio virale. Per cui, siamo tutti pronti, siamo operativi, corretto? Percussionistici sono tutti, musicisti sono tutti, molto bene. Come abbiamo detto prima, un brano di... Va male. E non dei white snake, perché qui non abbiamo la... Ci sono i telephatici, i disloved, quale sarà? Però sono ancora tutti vivi, white snake. Mi sicuro era quello di formarli. Non erano molto... Non erano molto... Eternals. Io, un'ultima informazione prima di partire, Julian e Giulia compiono gli anni, alzate le mani! Ehi là! No vabbè, mi puoi sbattere le bacchette? Il segno di... Siamo pronti, signori, di Bob Marley! Is this love? Sì, però è il primo pezzo, un applauso che dovete fare, perché se no c'è... Qua non pagano, se no, grazie! Sì, però è il primo pezzo, un applauso che dovete fare, perché se no c'è... Sì, però è il primo pezzo, un applauso che dovete fare, perché se no c'è... Sì, però è il primo pezzo, un applauso che dovete fare, perché se no c'è... Sì, però è il primo pezzo, un applauso che dovete fare, perché se no c'è... Sì, però è il primo pezzo, un applauso che dovete fare, perché... Sì, però è il primo pezzo, un applauso che dovete fare, perché... Sì, però è il primo pezzo, un applauso che dovete fare, perché... Sì, però è il primo pezzo, un applauso che dovete fare, perché se no c'è... Sì, però è il primo pezzo, un applauso che dovete fare... Amo la gloria, amo la gloria, amo la gloria E anche lei, Manuel Giacome Pier Giovanni Ma che è dietro? No ma...